Il più forte di tutti, il più forte di tutti, ce lo ha la Francia, beati loro, beati loro. Kylian Mbappé decide la partita con una doppietta, tre gol in due partite capocannoniere di questo mondiale insieme a Valencia dell'Equador, ma voglio parlare di Kylian, sì, perché Kylian è un giocatore che non ha bisogno di presentazione è di gran lunga il giocatore più forte del calcio moderno e lo sarà per i prossimi dieci anni tranquillamente. Questo qui a vent'anni ha vinto già un mondiale, a vent'anni ha vinto un mondiale da protagonista giocando titolare, vincerà le Champions, vincere i palloni d'oro, insomma le cose le vincerà. Non lo so se vincerà quanto hanno vinto Messi e Ronaldo, ma so che vincerà tanto. E questo qua è uno che ripercorrerà le loro orme, perché è un giocatore che poi noi ci divertiamo a parlare di schemi, di tattica, di moduli ma quando ce l'hai dalla tua parte uno come Mbappé è tutto più facile, tutto più semplice. La Francia a prescindere da Mbappé ha meritato la vittoria perché è una grande squadra e anche oggi ha strameritato di vincere però quando hai Kylian in squadra e ti fa la doppietta e te la fa vincere più facilmente, più facilmente e tra l'altro Mbappé rappresenta esattamente l'evoluzione di come sta andando il calcio perché se negli anni addietro i più forti sono stati Pele, Maradona, Cruyff, Messi giocatori che spiccavano dal punto di vista tecnico Mbappé è un giocatore che spicca dal punto di vista atletico per la sua esplosività. Ora, non sto dicendo che Mbappé non sia forte tecnicamente ma certamente lo è di meno rispetto a Messi, Maradona, insomma questi qua che ho citato quindi Mbappé rappresenta esattamente l'evoluzione del calcio un calcio che premia l'atletica, la fisicità, la forza, l'energia il modo in cui ti alleni, il modo in cui ti alleni per cui oggi per essere il primo al mondo, per primeggiare su tutti devi essere indubbiamente forte, devi avere talento ma ti devi allenare come un professionista serio e Mbappé fa tutto ciò Mbappé ha tutti questi requisiti Mbappé è destinato ad entrare nella storia del calcio veramente un giocatore fantastico un giocatore che io vedi giocare per la prima volta nel Monaco quando aveva 17 anni, 18 anni forse era da poco maggiorenne e dalla sua prima partita subito me ne accorsi che era diverso era diverso e quindi a distanza di 6-7 anni ne sto avendo semplicemente la conferma ne sto avendo la conferma ma venendo alla partita allora, la Francia anche oggi con la vittoria 2-1 sulla Danimarca conferma di essere la favorita alla vittoria del Mondiale insieme al Brasile onestamente io ho visto un sacco di partite ho visto tutte le big giocare e Francia e Brasile sembra che avranno qualcosa in più rispetto a tutte le altre voglio vedere anche la Spagna domani contro la Germania la Spagna che la prima l'ha vinta 7-0 voi direte contro la Costa Rica è vero però fare 7 gol in una partita del Mondiale non è mai semplice per cui domani sarà un test match importante per la Spagna ma comunque in generale Francia e Brasile mi sembrano le più attrezzate e le più forti la Francia secondo me ha anche qualcosa in più rispetto al Brasile perché oltre ad essere una squadra di grande tecnica è una squadra di grande fisico i vari Mbappé Rabiot Ternandez Chiameni a centrocampo insomma Giroud sono tutti i giocatori che spiccano anche a livello fisico cosa che manca un po' al Brasile sappiamo che i brasiliani sono i cultori del calcio sono diciamo gli artisti del calcio quindi spiccano a livello tecnico e a livello fisico un po' meno per cui se tanto mi dà tanto e se il calcio come ho detto prima sta avendo questa evoluzione verso l'atleticità la fisicità e questa roba qui la Francia dovrebbe essere la favorita e per me effettivamente lo è parlando un altro po' della partita Francia che ovviamente ha strameritato la vittoria al primo tempo finito 0-0 ma comunque dominato dalla Francia che non ha avuto grandi occasioni però aveva una predominanza territoriale secondo tempo la Francia ha cominciato a creare ha avuto diverse occasioni per fare gol e infatti passa in vantaggio con Mbappé poi la Danimarca segna dopo 6-7 minuti 1-1 sugli sviluppi di un calcio d'angolo e poi all'85esimo quindi negli ultimi minuti di partita arriva il gol di Mbappé quindi è vero che la Francia fondamentalmente ha vinto all'85esimo ma è una vittoria più che meritata a dire il vero sull'1-1 la Danimarca qualche occasioncina pericolosa l'ha avuta quella parata di Lloris poi c'è stata quella di Braithwaite però la Francia ha creato molto di più cioè se la Danimarca ha avuto due occasioni la Francia ne ha avute 5-6 ma pure 7 quindi vittoria per quanto riguarda meritata certo sul secondo gol lì il portiere poteva fare di più cioè lì un cross in area piccola è sempre del portiere invece Michael l'ha uscito un po' a farfallone e ha subito quel gol sul primo gol di Mbappé cosa vuoi dire? grande azione sulla catena di destra Mbappé Teo Mbappé e io penso forse sono anche un po' cattivello dicendo questa cosa che l'infortunio di Lucas Hernandez il fratello di Teo sia stata anche un po' una fortuna per la Francia perché ovviamente Teo mi sembra di un altro livello rispetto al fratello ovviamente hanno delle caratteristiche diverse Lucas è più difensivo però Teo ha un'altra gamba un giocatore più offensivo comunque più bello da vedere e ti dà grande supporto sulla sinistra sulla sinistra cioè tu sulla sinistra tu Francia attacchi con Teo e Mbappé non so se mi spiego forza tecnica esplosività cioè ragazzi sulla sinistra questi creano il panico creano il panico veramente il primo gol è nato proprio da una loro azione poi chiaramente io faccio i i i i i i grassi i grassi grossi auguri di pronta guarigione a Lucas Hernandez che si è rotto il legamento crociato è sempre un brutto infortunio veramente bruttissimo per cui auguri di pronta guarigione però Teo secondo me è di un altro livello per il resto Danimarca non voglio dire nemmeno deludente perché la Danimarca fondamentalmente ha fatto la sua partita nel primo tempo ha difeso bene nel secondo tempo la Francia è scesa in campo più determinata però comunque la Danimarca a suo modo ha messo un po' in difficoltà questa Francia che comunque è di un altro livello la Danimarca per me resta un'ottima squadra però con questa sconfitta comunque rischia di non passare il girone certo tra pareggio e sconfitta sarebbe cambiato niente perché comunque la Danimarca deve andare a vincere l'ultima partita contro l'Australia avversario non impossibile la Danimarca ha tutte le carti in regola per battere l'Australia però sarà una partita molto importante perché l'Australia può giocare anche sul pareggio mentre la Danimarca non ha opzioni deve vincere e basta per superare il turno e penso che comunque se la Danimarca passa il turno può dare fastidio a diverse squadre anche al Brasile all'Inghilterra a queste squadre qua perché anche stasera comunque ha dato fastidio alla Francia perdendo all'85 quindi è stata sempre in partita e questo è comunque in me un merito da parte della Danimarca che ha giocato contro una corazzata cioè ricordiamo che a questa Francia mancano 5-6 giocatori ma non gli ultimi arrivati cioè di quelli importanti manca il pallone d'oro Benzema Kanté Pogba lo contiamo anche se quest'anno non ha mai fatto una partita poi Magnoni importa cioè e ne dimentico altri ne dimentico altri quindi ragazzi questi qua veramente hanno tre squadre cioè la Francia se giocasse il mondiale con la panchina comunque sarebbe una pretendente alla vittoria finale cioè questa la cosa imbarazzante rispetto a tutte le altre mentre gli altri magari hanno 11 titolari forti poi la panchina un po' più scarsa questi qua hanno la possibilità di ruotare di scegliere cioè se fatto male Lucas Hernandez è entrato il fratello Teo che è più forte di Lucas cioè capite a che livelli siamo non lo so comunque ragazzi miei è buon per loro buon per i francesi che comunque ricordiamo che sono i campioni i campioni in carica e hanno vinto i mondiali a Russia 2018 e nessuno gli vieta di potersi ripetere perché ripeto io al momento a parte il Brasile non vedo una squadra che può essere a livello della Francia però ripeto Francia e Brasile sono due squadre forti ma dalle caratteristiche diverse e per me nel calcio moderno le caratteristiche della Francia vengono premiate rispetto a quelle del Brasile poi il calcio è bello il calcio è imprevedibile parla sempre il campo e quindi staremo a vedere un po' chi la spunterà in questo mondiale certo una finale Brasile-Francia ma anche una semifinale Brasile-Francia sarebbe veramente interessante da vedere comunque ragazzi ci vediamo più tardi perché stasera c'è il partitone stasera scende Leo in campo Argentina Messico Argentina che deve vincere per forza Argentina che non può sbagliare e caro Leo stasera devi fare quello che ha fatto Mbappé hai visto Mbappé che ha fatto si è caricato la squadra sulle spalle e l'ha portata alla vittoria così Leo dai Leo il tuo ultimo mondiale forza grinta volontà è anche vero che Mbappé gioca in uno squadrone ed è aiutato dallo squadrone Messi gioca in una squadra per me forte però che in questi appuntamenti viene sempre un po' meno e cara Argentina fatti valere appuntamento più tardi ciao belli grazie